Si è svolto a Palazzo dei Leoni il convegno su Alessandro Manzoni, la tradizione in viaggio, organizzato dalla prima direzione Servizio Cultura e curato dalla responsabile dell'ufficio Aventi Culturali, tuttoressa Lucia Di Gennaro. Dopo i saluti istituzionali del sindaco metropolitano dottor Federico Basile, i lavori sono stati introdotti dalla dirigente alla cultura, avvocato Anna Maria Tripodo, a cui sono seguiti gli interventi della giornalista e scrittrice Stefania Romito, del professor Nino Giordano, della direttrice nazionale del Dipartimento Letteratura Accademia Tiberina di Roma, professoressa Antonietta Micali, e in collegamento video del direttore scientifico Manzoni 150, professor Pierfranco Bruni, scrittore, poeta e saggista. L'evento di Arno è un doveroso omaggio al grande scrittore milanese che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della lingua italiana, determinando non soltanto la formazione dell'identità nazionale, ma anche la crescita culturale e civile di un paese che si avviava verso la tanto aspirata unità. Manzoni pone in uno stretto legame il romanticismo, attraverso la lettura delle arti e della letteratura, con il risarcimento, e fa in modo che la storia incontri non solo la cronaca, ma anche le vicende e le avventure dei personaggi. Al meeting hanno partecipato i studenti degli studi scolastici messinesi Manzoni, Verona Trento Maiorana, La Farina, Marolico, Seguenza, Iasi e l'Istituto Comprensivo I di Virazzo. Il progetto scientifico nazionale Manzoni 150, ideato da Bruni, costituisce un viaggio nella tradizione della letteratura italiana e attraverso le radici manzoniane realizza una rilettura interpretativa comparata e dialogante tra lingua, storia, letteratura, filosofia e religione. Questa esperienza ha permesso di realizzare un testo unico di circa 320 pagine, a cui hanno contribuito 33 studiosi, tra cui i messinesi professor Nino Giordano, di Nizza, di Sicilia, e la professoressa Antonietta Micali, di Torregrotta. Il volume, frutto di un proficuo confronto tra esperti e docenti, è rivolto particolarmente alla formazione delle giovani generazioni, alle quali offrire una chiave di lettura innovativa rispetto agli schemi interpretativi attuali, e rappresenta una proposta di dibattito intorno alla cultura identitaria e nazionale, sia sul piano linguistico che letterario è filosofico. L'evento di Palazzo Leoni è stato patrocinato dalla Camera dei Deputati, dal Comune di Milano, dalla città metropolitana di Messina, da vari enti e associazioni culturali e da numerosi comuni italiani.